Non uno, ma ben cinque corsi di fotografia che dovresti tenere in considerazione se vuoi fare sul serio. Sì, è vero, anch'io tengo corsi di fotografia, dalla Fotografica Factory tra Milano e Lodi, ma voglio anche consigliare delle altre soluzioni perché è importante avere nozioni da diversi fotografi e diverse realtà. Non posso fare altro che partire da Photo Image di Fulvio Bugani a Bologna, là dove è nato il mio progetto, Play the Game Over. Se siete invece di Roma e dintorni, sono due le soluzioni che vi consiglio. Una è WSP Photography, dove dentro c'è anche Fausto Paudavini, e una invece è Pro Photographer di Paolo Marchetti, con il quale ho fatto questa Masterclass, che è molto molto intensiva e sicuramente porta dei risultati. Sempre in centro Italia c'è Mood Photography, dove c'è la presenza di Stefano Schierato, mentre per quanto riguarda il milanese, quindi qua negli intorni, vi consiglio Bottega Immagine, dove all'interno trovate diverse figure molto competenti in diversi settori.